Pura HPE, la prima vettura della nuova era Lancia, che porta con sé le linee guida del design che vedremo nei modelli della casa italiana nel corso dei prossimi dieci anni, a partire dalla prossima Lancia Ypsilon. Pura rappresenta l'essenza del design italiano, con un cuore 100% elettrico, l'autonomia è di oltre 700 km con un tempo di ricarica ultra rapido, di poco sopra 10 minuti. All'esterno troviamo la carrozzeria rivestita da un bellissimo Progressive Green, mentre all'interno viene enfatizzata tutta l'italianità grazie alla collaborazione di Cassina, leader dell'arredamento di alta gamma, con materiali ecocompatibili e all'avanguardia come il Marmor, uno speciale tessuto che impiega nella sua realizzazione la polvere di marmo. Verso il futuro con stile, con la nuova Ypsilon, che arriverà nel 2024 in versione ibrida e 100% elettrica, proseguendo poi verso il 2028, dove, con l'arrivo della nuova Delta, Lancia diventerà un brand 100% elettrico.